Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Allora oggi voglio mostrare come andare a riutilizzare un tappo della bottiglia per fare una creazione a tema natalizia. Ora andiamo per prima a prendere questa mela. Come vedete ho questo pescino qua e questo sotto, questo sotto ovviamente andrà tagliato ecco perché ho delle forbici, perché sennò non si potrà attaccare. Dopodichè andiamo a prendere la nostra colla, andiamo a metterne un po' qui. Prendiamo il nostro tappo e andiamo a pressionare qui al centro. Prendiamo il nostro tappo e andiamo a prendere il nostro tappo e andiamo a prendere il nostro tappo. Nel frattempo io ho messo anche questa pallina in modo che si asciugano insieme. Non andremo a prendere altre cose perché finalmente finiremo soltanto per farlo distruggere praticamente e cominciamo a rinaspettare il tempo, comunque un po' tanto. Andiamo a prendere questa stecca e andremo pian piano ad andare a farci un cerchio. cominciamo a prendere il nostro tappo. Cominciamo a prendere il nostro tappo. E andremo così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.